In un paese che invecchia la questione delle residenze per anziani diventa una necessità da programmare. Trascurato è il problema dei tanti anziani che vivono da soli nei piccoli comuni lucani, dove lo spopolamento e la riduzione delle presenze dei giovani per mancanza di lavoro aumentano la solitudine e il bisogno di essere assistiti. Così il consigliere regionale del PDL, Mariano Picci, ha presentato al presidente dell'Aggiunta regionale, e Vito De Filippo, un'interrogazione per sapere quali sono stati gli investimenti per sostenere le strutture per gli anziani. L'ultimo bando per finanziarne le residenze risale al 2003 e i fondi disponibili con i POIS, i progetti di offerta integrata di servizi, sono, secondo il consigliere, inadatti e insufficienti. Non è mancata da parte dell'esponente regionale la sollecitazione all'Aggiunta a concedere contributi per interventi finalizzati al potenziamento delle strutture socioassistenziali residenziali e semiresidenziali in coerenza con gli obiettivi del piano socioassistenziale regionale.